I castelli romani hanno dato la nota gioiosa della sana allegria paesana e i boschi dei monti albani la loro profusione di mammole odorose alla festa della violetta, schietta e riuscitissima sagra del carnevale organizzata dal dopolavoro di Genzano. Un'altra festosa manifestazione del carnevale del Lazio si è avuta ad Acquapendente, cittadina in provincia di Viterbo rinomata per la sua bella chiesa del Santo Sepolcro. Un'altra festosa di Viterbo rinomata per la sua bella chiesa del Santo Sepolcro